Giacomo Travaglino, magistrato di Cassazione. Si discute di diritti del paziente, tutela del malato, meno frequentemente però di responsabilità e diritti dei medici, della professione medica. Com'è cambiata la giurisdizione in materia? La giurisdizione in materia è cambiata molto lentamente in molti e molti secoli perché la storia della responsabilità sanitaria è una storia pendolare e le oscillazioni di questo pendolo non sono armoniche e molto spesso toccano l'uno e l'altro estremo e da quel momento in poi le cose cominciano a cambiare. Noi abbiamo avuto un'epoca storica fino agli anni 70 in cui il professionista era sostanzialmente intoccabile dal punto di vista risarcitorio e questo era anche frutto di una cultura dell'epoca. Il professionista intellettuale era di per sé portatore di sapere e abbiamo sentenze degli anni 70 ma anche di un periodo precedente che sostanzialmente lo dicevano e vedevano responsabile soltanto in caso di gravissima negligenza. Poi le cose cambiano e la giurisprudenza perché il legislatore fino a tutto il 2012 non è mai intervenuto con una norma di sistema parlo di norme che riguardano la responsabilità perché poi la legge sul sistema sanitario la conosciamo tutti lentamente si è creato un sistema esattamente speculare di tutela del paziente. Questa è stata anche un po' la conseguenza della visione del rapporto danneggiante-danneggiato e quindi in questo caso medico-paziente che andava sempre più a sbilanciarsi verso la parte debole del rapporto. Guardi, questo ci viene anche dall'Unione Europea, cioè l'idea, la norma sui consumatori, ora stiamo parlando ovviamente di un'altra dimensione di responsabilità, però era ancora una volta un processo di tipo culturale prima ancora che strettamente giuridico. Ecco che si crea un sistema in cui il paziente è ipertutelato. Ora non voglio scendere in particolare i tecnici che sarebbero noiosissimi, ma il riparto degli oneri probatori e gli elementi strutturali della responsabilità civile in ambito sanitario, tant'è che qualcuno ha parlato di sottosistema di responsabilità che fuoriusciva un po' dai canoni classici e dalle strutture classiche dell'illecito, si è creato lentamente attraverso una serie di sentenze, ciascuna delle quali si occupava di un caso particolare perché non dimentichiamo che in ogni vicenda di responsabilità medica dietro c'è la storia di una persona e di conseguenza la storia di una persona tanto più grave, tanto più intensa, tanto più drammatica risulta, tanto più porta, perché anche i giudici sono donne e uomini, porta a flessibilizzare dei criteri in favore del paziente. Tutto questo ha creato un sistema all'esito del quale si è parlato non a caso di medicina difensiva e soprattutto all'interno del quale il medico si è sentito a torto e a ragione, in parte a torto e in parte a ragione, un po' perseguitato dalla giurisprudenza. E così cominciano finalmente a muoversi un po' i legislatori, perché in questo caso sono due, prima con la legge Balduzzi che entra in vigore il primo gennaio 2013 e che non ha avuto purtroppo un grandissimo esito da un punto di vista civilistico perché era scritta male. E questo non lo dico solo io, ma l'hanno detto tutti i giudici di merito che si sono trovati ad applicare, tant'è che non l'hanno applicato uniformemente su tutto il territorio nazionale. E poi arriviamo alla legge 24 del 2017, cioè la legge Gelli Bianco, che è una legge di sistema e come tutte le leggi ha i suoi difetti e i suoi pregi, ma ha il pregio exante di avere disciplinato sistematicamente la responsabilità sanitaria. La peculiarità di questa legge è quella di riportare il medico in una dimensione di maggior tutela e dunque attraverso l'evocazione della extra contrattualità della responsabilità non annoiamo i suoi ascoltatori spiegando cosa sia. Diciamo che come conseguenza oggi è molto più difficile evocare un medico in giudizio ed è molto più semplice invece evocare la struttura. Questa è un po', se vuole, la filosofia di fondo e lo scopo della legge Gelli Bianco. Grazie a tutti.